Musica Io credo che ho avuto questa passione per la pittura da sempre, da subito e quindi sono stato accompagnato anche dagli studi l'ho sempre seguita nonostante io alla fine sia un architetto e abbia avuto non una formazione come naturalmente chi tu sei appassionato di pittura e allora cosa fai? Vai in Accademia di Belle Arti in realtà io ci sono passato dall'Accademia di Belle Arti ma per tutta una serie di circostanze ho deciso di non continuare gli studi e iscrivermi in Architettura a Reggio Calabria dove mi sono laureato e la mia formazione da architetto io l'ho trasferita nei quadri e molto spesso la struttura compositiva molto ferrea nasce proprio da questo, dall'architettura Musica In questa collezione nello specifico ha un tema conduttore che sono i reali di Sicilia e Palermo ha ospitato nell'anno 1000 una cultura straordinaria che è quella degli Altavilla che è un popolo che viene dal nord e libera la Sicilia dai turchi e inizia una dominazione quella normanna che ha dato alla Sicilia lo splendore di cui oggi possiamo andare fieri voglio citare una tra tutti, la Cappella Palatina che è una delle sette meraviglie del mondo un quadro nasce molto spesso da una folgorazione non c'è un motivo che tu puoi spiegare razionalmente anche se ti chiedono razionalmente mi dai una spiegazione durante una passeggiata a Cefalù ho visto il Cristo Pantocratore che c'è nella cattedrale di Cefalù una cosa straordinaria per intenderci forse è più conosciuto di quello che si pensi Giovanni Paolo II quando fece il Giubileo dei Giovani lo utilizzò come icona da mettere dietro le sue conferenze dietro il palco, dietro tutto quello che è stato la macchina organizzativa del Vaticano quindi è diventato una pop star moderna anche se di mille anni fa e da lì insomma dalla passeggiata fatta in questa straordinaria chiesa mi è nata la curiosità e mi sono chiesto ma chi sono queste persone? chi era Ruggero II? chi era la regina Costanza d'Altavilla? chi era Federico II? che forse fra tutti è il più conosciuto perché ha anticipato la figura di uomo moderno visto che con lui abbiamo cominciato a sapere cos'era uno scienziato che cos'era un politico, che cos'era un astrologo e tanto altro ancora ed è nata una collezione di 22 pezzi in cui si raccontano i reali appunto a partire dalla prima delle opere che è esposta qui alla GAM del Comune di Catania vogliamo quindi parlare della storia di questo quadro e degli elementi contenuti in esso? l'elemento principale dell'opera è la tiara della regina Costanza d'Aragona anche se alcuni storici pensano che sia appartenuta in realtà a Costanza d'Altavilla cioè la figlia di Ruggero II e la mamma di Federico II perché alcuni particolari della tiara sembrano essere identici al mantello di Ruggero II che attualmente si trova a Vienna al Museo Nazionale finalmente a Catania abbiamo portato Benedetto Poma per come meritava nella sua città sostanzialmente con questa esposizione alla GAM in questa galleria d'arte moderna che è uno spazio espositivo molto interessante il suo interesse per la storia, il suo interesse per la Sicilia, il suo interesse per la conquista in questo caso dei Normanni dove lui ovviamente ha rivisitato questa pagina di storia molto importante attraverso una chiave contemporanea abbiamo qui due opere che sono secondo me due capisaldi dell'esposizione della mostra di Benedetto Poma abbiamo questo quadro che si intitola Mi perdo come il giorno nella sera dove viene rappresentato, intanto è dedicato alla città di Cefalù che è stata una delle tappe che ha toccato la mostra e questo quadro come potete vedere raffigura in primis la Madonna del Gaggini che si conserva nella cattedrale è bella ed è interessante la soluzione iconografica che ne fa Benedetto perché Benedetto ad esempio rappresenta la Vergine così stanziata al centro della scena e in questo caso simboleggia l'albero così come è narrata nella Bibbia la Madonna è l'albero da cui viene generato il frutto il frutto è il bambino Gesù in questo caso il bambino Gesù e la Madonna si rivolgono verso l'umanità che è un po' il testimone Gesù dice a Maria ecco questa è la tua progenie tu diventi madre di tutti e lui lo fa cioè l'albero dà il frutto che è il bambino però è vero anche che il frutto è il limone ed è un frutto che simboleggia Cristo quindi un frutto cristologico ma in particolar modo rappresenta la passione di Gesù proprio perché è un frutto acre e quindi ci porta sostanzialmente alla sua passione la passione che cosa genera? genera il sangue versato, il sangue salvifico quindi un valore apotropaico che lui in questo caso mi va a nascondere fra virgolette in questo bellissimo monile di corallo e oro e argento che era tipico della Sicilia del Seicento quindi della lavorazione del Seicento dove il corallo mi simboleggia proprio il sangue senza la passione non c'è il sangue quindi non c'è la salvezza e la salvezza viene da Maria qui la cosa secondo me molto interessante è l'impaginazione un po' sovrapposta che fa Benedetto abbiamo un particolare dell'ex convento dei Gesuiti di Mazzara con questa luce che viene da dentro se tu vedi e poi un particolare invece della cattedrale sempre di Mazzara che è un basso rilievo che raffigura Ruggero viene ad essere sovrapposto in monocromo con questo cavaliere che sostanzialmente avanza che è Ruggero il conquistatore quindi il padre del primo re e sottomette il popolo musulmano che è un po' sovrapposto in monocromo e il padre del primo re